Voli aerei in aumento nella prima metà di agosto. L'Enav ha reso noto di aver gestito nei primi 15 giorni del mese oltre 48.000 movimenti, in aumento del 33% rispetto al mese di luglio, per una media giornaliera pari a 3.200 voli contro il 2.400 del mese precedente, un dato che conferma del trend di crescita del traffico aereo in Italia. Nei primi 15 giorni di agosto è stato recuperato circa il 50% del traffico aereo registrato nello stesso periodo del 2019, con un ulteriore aumento rispetto a luglio, che si è chiuso con il recupero del 40% del volato dello stesso mese dell'anno scorso. Enel e Intesa San Paolo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l'accesso al credito delle aziende fornitrici del gruppo. L'accordo si pone l'obiettivo di supportare le PMI della filiera Enel e di facilitarne l'accesso al credito, in modo da permettere loro di avviare percorsi di crescita e di sviluppo sostenibile. Le aziende di filiera potranno così attivare processi di evoluzione con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla transizione verso modelli di economia circolare. La collaborazione che favorirà in questa fase di lancio circa 130 aziende fornitrici, selezionate da Enel e distribuite in tutta Italia. Il gruppo bancario cooperativo ICREA gestirà una quota di 46,5 milioni di euro delle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, destinate al Fondo Studio Sì, l'ultimo strumento promosso dal Ministero dell'Università con la Banca Europea per gli investimenti per promuovere la formazione specialistica universitaria. In particolare il Fondo intende contribuire alla riduzione del gap esistente in Italia con il resto dell'Unione Europea rispetto al numero dei laureati nella fascia tra i 30 e i 34 anni, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e garanzie da veicolare soprattutto verso percorsi di istruzione nel mezzogiorno italiano. I consumi alimentari degli italiani fanno segnare un calo del 10% nel 2020 per effetto del crollo del canale della ristorazione che non viene compensato dal leggero aumento della spesa domestica. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base di dati ISMEA dalla quale si evidenza un taglio complessivo della spesa a tavola di ben 24 miliardi per effetto dell'emergenza coronavirus. La spesa alimentare degli italiani è tornata sui valori del 2010 nonostante in termini percentuali si sia verificato un aumento rispetto alle altre spese.